Musica per la città, i solisti aquilani hanno presentato la loro rassegna artistica 2022-2023, un cartellone intenso con 17 concerti aperto da uno per il decennale dell'auditorium del parco in collaborazione con la Baratelli il 7 ottobre. La stagione è un omaggio alla città ed è pure una sorta di ritorno alla normalità perché si torna agli abbonamenti con interpreti di assoluto rilievo. Sono appuntamenti con artisti, faccio dei nomi Giovanni Sollima, Filippo Gorini, Giuliano Carmigliora, Ramin Barami, compositori come Sciortino, come Borgonovo e tanti altri. Quindi si va dalla musica barocca, musica antica, alla musica contemporanea per passare attraverso un repertorio importante, fondamentale, come quello che vede musiche di Indemit, di Schoenberg, di Stravinsky. Quindi abbiamo ulteriormente allargato i nostri programmi, il nostro repertorio, appunto per fare in modo che i solisti aquilani abbiano una visione ancora più estesa di quella che è la musica. Ci sarà anche un attore molto conosciuto come voce recitante in uno spettacolo Giovanni Scifoni. I solisti aquilani, come ha sottolineato pure il presidente Fabrizio Dragonetti De Torres, porta il nome dell'Aquila fuori dal territorio in tutto il mondo, ma ogni anno si è felice di condividere con la propria città le produzioni più importanti. La rassegna si concluderà l'11 maggio.